ciao gnari ciao gnari prevalle prevalle vicino al centro a tutti i servizi vi faccio vedere una porzione di cascina rimodernata introvabile che è una roba stupenda stupenda qualche portone qui entri con la macchina entri anche con furgo entri così chiudiamo la porta guarda che roba ti faccio tanti filmati e questo è il numero uno pavimento nuovo corte tutta tua corte tutta tua ai roba questa la parte al rustico dove però il tetto nuovo le solette sono nuove e ci puoi fare un appartamento uno studio quello che vuoi adesso ci giriamo a e roba portico stupendo ok gnari chi non la compra perde l'affare dell'anno te lo dico io guarda che bello stalla stalla è fuori una taverna fotonica che bella porte a tenere fantastiche adesso dovete vedere il prossimo video il numero 2 ciao gnari